Sì, cammina sotto la persona, fai una passeggiata, ecco questo è bravo, avanti e indietro. Questo devi venire più su delle spalle, esatto, esatto. Ah, ecco, esatto. Che guerrilla. La schiena. Guarda, se ti si veste che non riesce usciva bene. No, no, bene. Rimano incastrato. Ah, che figo. Basta, è troppo complicato. Non lo so cosa ho fatto.